Ben ritrovati, in provincia di Benevento si ripropongono le problematiche relative al dopo alluvione, si denunciano ancora una volta ritardi e mancati interventi. Ne parliamo con Nicola Romano che è il presidente di Confocommercio Benevento per capire appunto che cosa manca, che cosa è stato fatto finora dal disastro dell'alluvione. Ben ritrovato intanto Presidente Romano, grazie per la sua disponibilità. Sette mesi dopo l'alluvione si denunciano ancora ritardi e mancati interventi, dicevamo. Allora qual è dal vostro osservatorio il bilancio, dal punto di vista economico il sanno che situazione sta attraversando, soprattutto per quanto riguarda il vostro settore? Grazie prima di tutto dell'invito e grazie della possibilità di discutere di un problema che oggi sta diventando endemico. Purtroppo oggi abbiamo anche la provincia, prendo spunto dall'ultima nota fatta dai commercianti e dagli imprenditori di solo paga che anche voi come otto pagine avete trasmesso ampiamente. La situazione oggi è più drammatica di ieri, la situazione oggi è più drammatica del subito del post alluvione, peggio del 20 di ottobre, perché il 20 di ottobre si cercava di correre ai ripari per salvare il salvabile o per rimettere in piedi l'economia. Oggi abbiamo la constatazione amara di dire che purtroppo è tutto fermo, purtroppo non c'è stato nessun intervento da parte dello Stato, non c'è locali e né dalle istituzioni regionali. Le istituzioni regionali e lo Stato con il commissario Grimaldi si sono mosse giustamente per risolvere quelle che erano le problematiche comuni, strade interrotti, ponti, qualche scuola, qualche intervento immediato su quelle che erano le necessità della comunità, ma per quanto concerne il mondo produttivo, le imprese in particolar modo, sia industriali che artigianali e il comparto che io rappresento, quello commerciale e del turismo, ad oggi è tutto fermo al palo. La rabbia sta nel fatto che non vediamo nulla di attivato, cioè nel senso che domani mattina non si vede un domani mattina, fra un mese, fra due mesi, la possibilità di un intervento, perché nulla per quanto ci risulta è stato messo in atto. Eppure voi vi siete mossi per tempo, insomma come ConfCommercio avete attivato da subito uno sportello per i danni subiti dalle attività commerciali e avete anche così dato un sostegno concreto a chi aveva subito delle difficoltà, delle conseguenze gravi rispetto al disastro dell'alluvione. Che riscontri avete avuto? Ma il nostro contributo, il contributo che abbiamo oltretutto finito di erogare da pochi giorni alle imprese associate ConfCommercio che ammontava a 157 mila euro, fondi che ci sono giunti direttamente dalla nostra fondazione Orlando, è stato un atto di presenza, sicuramente non lo possiamo definire un aiuto perché le somme che abbiamo dato sono delle somme minime agli 80 nostri associati. Voleva forse più che altro essere di sprono e di esempio a chi di dovere e per obbligi istituzionali doveva intervenire. Certo che oggi lo stato d'animo degli imprenditori tutti, commerciali e industriali, penso che sia a livello zero, per non dire meno che zero. Per altre circostanze sono stati attivati degli sportelli di sussidi psicologici, penso che forse oggi noi ci arriviamo sulla stessa cosa, dovremmo un attimo anche intervenire su quella che è la forza morale e imprenditoriale dell'imprenditore perché visto sia abbandonato totalmente, ma non diciamo dallo Stato perché forse lo Stato, l'iter di aiuto tecnico materiale da parte delle istituzioni nazionali è comunque lungo, il dottore Grimaldi, il commissario è stato chiaro fin dall'inizio, ha detto è inutile che ci venite a sollecitare per agli aiuti immediati alle imprese, i tempi non sono brevi, non sono lunghi, quindi gli va riconosciuto per onestà, chiarezza, il problema è che noi abbiamo avuto le istituzioni locali e mi riferisco alle istituzioni locali, al Comune, all'amministrazione comunale, alla Camera di Commercio di Benevento, che oltre alla passerella mediatica delle prime ore dove addirittura esce fuori oggi che qualcuno è andato a spalare il fango, io non l'ho visto, io per onestà non ci sono stato, ma comunque posso dire che non mi risulta, nulla hanno fatto, suppongo che forse siamo l'unica Comune d'Italia che dopo un evento del genere sono arrivate cartelle di tributi ai commercianti con l'aumento del 5% per i costi sostenuti per spalare il fango, perché l'Asia ha dato, ha dato la beffa, siamo l'unica area d'Italia dove non sono stati bloccati i contributi, siamo l'unica area d'Italia dove la Camera di Commercio di Benevento che poi è il diretto interlocutore o il punto dovrebbe essere il punto di riferimento degli imprenditori, il Presidente non ha neanche gradito ricevere il Comitato dei negozianti alluvionato, la stessa cosa vale per l'ex sindaco di Benevento. Tante cose che non sono andate per il verso giusto, però al di là dell'alluvione Presidente Romano volevo chiederle qual è lo stato di salute del commercio nella città di Benevento perché soprattutto nel centro storico si registra una emorragia possiamo dire di negozi, una crisi che continua, insomma qual è la situazione? Ma se il problema della desertificazione oggi è un problema generale, è un problema che diciamo si nota di più in Italia che forse nelle altre aree europee, a Benevento raggiunge l'apice. Noi nel centro storico, diciamo nel centro storico di Benevento per intenderci Corso Caribaldi e Traverse Vicole Limitrofe abbiamo perso più del 70%, uso un termine particolare del PIL, cioè del fatturato. Oggi abbiamo due vetrine, tre vetrine su cinque chiuse, non c'è più l'immagine dello shopping perché abbiamo tanti piccoli negozi, per lo più in franchising, quindi diciamo che c'è stato dato un indirizzo a quella che doveva essere la bella strada di Benevento, quella che doveva essere la nostra via condotti o la nostra via Spica, oggi è diventato una strada qualunque. Insomma sta scomparendo il commercio storico Benevento, mi pare di capire. Sta scomparendo, noi come ConfCommercio vogliamo ricalcare un attimo quelle che sono le iniziative che ConfCommercio, che la nostra Confederazione sta portando in giro per l'intero territorio nazionale. L'ultima convenzione firmata è quella di giovedì scorso con il sindaco di Salerno, con il neo candidato di nuovo al sindaco di Salerno, Nocera Inferiore e Pagani perché noi come ConfCommercio abbiamo un accordo nazionale con Anci dove per la rivedializzazione del centro storico, dei centri storici e per fare in modo di agevolare un attimo il ripristino di quelle che erano le vecchie attività si è stipulato un protocollo d'intesa. Al nuovo sindaco ci auguriamo con una visione diversa del comparto commerciale e turistico. Dalla nuova amministrazione a Benevento naturalmente si vota il 5 giugno, che cosa vi aspettate? Quali sono le vostre istanze ma anche le vostre proposte rispetto alla crisi del commercio? Polemicamente potremmo dire l'esatto opposto di quello che è stato gli ultimi 5 anni. Negli ultimi 5 anni le associazioni di categorie, tra cui anche ConfCommercio, sono state ricevute all'epoca assessore alle attività produttive due volte. Il rapporto non è stato positivo? Non è che non è stato positivo, non c'è stato proprio dialogo, non c'è stata collaborazione. Diciamo che si sono accorpati il compito di decidere da soli e i risultati sono quelli che sono. Noi vogliamo essere propositivi, non vogliamo avere incontri con la nuova amministrazione, con il nuovo sindaco e con il nuovo assessore alle attività produttive per dire questo non va bene, questo non va bene. Ci sono una serie di problematiche. Il Benevento fortunatamente dopo tanti anni abbiamo raggiunto il traguardo della serie B e ci auguriamo che sia solo un passaggio per una serie superiore. Però abbiamo il problema oggi che è un problema grande, quello del mercato degli ambulanti. Un mercato che per sé è un mercato che è già delle problematiche antiche che si riporta dietro. Quindi oggi andare a dire per 17, 18 sabato, 16 sabato, quelle che saranno, bisogna trovare delle soluzioni alternative. Ci sono già ipotesi al bagno? Io ho avuto un incontro con alcuni rappresentanti degli ambulanti. Diciamo che al momento ci sono varie, possono essere prospettate varie soluzioni su cui si sta lavorando e su cui si sta anche cercando di limarle e portarle a due o tre richieste che chiaramente andranno fatte al nuovo sindaco, alla nuova amministrazione. Ma il problema degli ambulanti a questo punto non è solo quello della localizzazione per le 16 giornate. Lì le problematiche sono tante. Il mercato così com'è Piazza Mercato, Santa Colomba, così com'è, certo non è strutturata e non si può chiedere all'ambulante il costo di posteggio che gli viene chiesto oggi senza dare servizi zero. Diciamo che lì il comune l'ha fatto un poco da padrone, ha detto io ti faccio fare il mercato, non ti do nessun servizio perché non ci sta nessun servizio né per i cittadini, né per gli utenti, né per chi va lì, per il consumatore e tanto meno per chi espone, per l'imprenditore. Quindi diciamo che lì la problematica va oggi affrontata non solo per il dislocamento dei 16 sabato mattina, ma è molto più ampia, è molto più complessa. Ci sarà bisogno sicuramente di tempo e di tanta buona volontà dal nuovo assessore e dal nuovo sindaco per cercare di risolvere non solo le problematiche nuove, ma prendere anche in mano quelle che sono state le problematiche del passato e cercare di metterci una pezza. Insomma, questa del mercato del sabato sarà una delle prime grane per il nuovo sindaco di Benevento. Intanto per chiudere questa nostra intervista, Presidente Romano, dalla nuova regione che segnali avete colto dal punto di vista del tessuto economico e sociale della vostra città? La nuova regione diffondo tutto quello che è stato detto in precampagna elettorale, in campagna elettorale dal neogovernatore, dal neopresidente De Luca. Gli assessori preposti al nostro comparto diciamo che con i tempi, perché chiaramente i tempi non sono brevi, stanno mantenendo un attimo fede, diciamo almeno è questo il sentore che noi abbiamo agli impegni presi in precampagna elettorale. Noi abbiamo un ottimo rapporto e stiamo avendo un ottimo dialogo con l'assessore, la dottoressa Chiara Marciano che si occupa della formazione del tutto. Abbiamo apprezzato e la riteniamo gratificante l'approvazione della nuova legge quella fatta il 3 aprile per quanto concerne anche il ruolo delle associazioni di categoria all'interno del nostro comparto. Mi riferisco per lo più all'articolo 5 della legge regionale dove di fondo non sono più previsti aiuti per le associazioni di categoria, però finalmente viene premiato il lavoro che le associazioni di categoria svolgono sul territorio, concorsi di formazione, servizi alle imprese. Quindi sotto questo punto di vista tanto di più deve essere fatto. Oggi condividiamo in parte anche quello che è il documento che Confindustria a Napoli ha prodotto per quanto concerne il turismo. Ci sono dei ritardi sicuramente importanti, le basi erano diverse, nell'ambito regionale il nostro territorio in questo momento non è salvaguardato rispetto ad altre realtà che possono essere quelle del napoletano o del savernitano. Chiediamo un occhio di attenzione in più, però se quelle che sono le basi del programma si attueranno sicuramente ne daremo beneficio. Staremo a vedere naturalmente. Bene, grazie al Presidente di Confcommercio di Benevento Nicola Romano che è stato nostro ospite per questo approfondimento. Naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i programmi di Otto Channel. Arrivederci. Grazie a tutti.